Abbiamo messo alla prova tanti amici e tante amiche Ma adesso è arrivato il nostro momento Enzo, Carla, ho bisogno del vostro aiuto Mia sorella troppo così sposa Inutile dire che voglio essere impeccabile Come wedding planner questa missione mi entusiasma tantissimo Mi raccomando, avete un'ora di tempo Un'ora? Beh, la carta Visa ce l'abbiamo E allora? Shopping Andiamo Attenzione ragazze, per un matrimonio Mai scegliere un abito completamente bianco A fatto che non siate voi la sposa Laura, ma stai benissimo Mi piace Certo che ti piace, l'abbiamo scelto noi E tu, che cosa avresti scelto? Vai sul sito e crea il tuo outfit Ma attenzione al budget Con Visa è più facile la vita Grazie a tutti